Per lo sciamanesimo esiste l'aldilà? Assolutamente sì. Quello che si pensa è che l'anima, una volta lasciato il corpo fisico, inizi il suo viaggio nell'aldilà. Aldilà che è composto, potremmo dire così, da diversi mondi invisibili, perché noi comunque non siamo materia, non siamo un corpo fisico, o perlomeno non siamo solo questo, ma siamo spirito, anima, energia. E quindi continuiamo la nostra esperienza sotto questa forma. Nello sciamanesimo si ritiene, salvo alcune eccezioni, che esistono tre diversi mondi, il mondo di sotto, il mondo di mezzo e il mondo di sopra, un po' come nella rappresentazione dell'inferno, purgatorio e paradiso danteschi. Ma, a differenza di questa visione cristiana, questi non rappresentano l'inferno o il paradiso, ma rappresentano diverse qualità energetiche, diversi livelli di consapevolezza, dove l'anima può viaggiare.